Post partita di gara 1 di semifinale al microfono di serie A direttanti.it Massimo Friso, probabilmente non contentissimo perché non giocando benissimo Ferentino è andato veramente vicino al colpaccio per inaugurare le serie. Sì, siamo andati vicinissimi come eravamo lontanissimi nei primi due quarti, per cui buona reazione però non si può pensare di lasciare così tanto tempo il gioco in mano agli avversari sia in difesa sia in attacco. Ecco, c'è stata un'eccellente reazione però probabilmente con lo sforzo per arrivare lì abbiamo pagato in lucidità nei momenti decisivi perché non eravamo sopra di quattro punte. Hai detto benissimo, ha un po' un vizio Ferentino, lo stesso vizio di Palestrina, regalare due quarti all'avversario, regalati a Palestrina, regalati qua poi sempre reazione di orgoglio però poi quando devi sempre inseguire diventa tutto più difficile. Poi sì, pensavo che la lezione fosse servita, invece no, ci vuole molta più attenzione, ci vuole più uscita. Spesso nei playoff non bisogna fare cose magnistiche, qualche volta bisogna accontentarsi di non fare errori e chi fa meno errori vince. Noi ogni tanto vogliamo fare delle grandi prodezze e purtroppo se non si è lucidi perché si è giocato poche ore prima bisogna ogni tanto rinunciare a qualcosa e fare qualcosa di più semplice. 7 su 27 da 3 punti, lo dicevamo, Ferentino è una squadra comunque che un po' dipende dalla balistica e dalle percentuali e diventa difficile vincere qua con queste percentuali. Sì 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 certo, sicuramente noi dipendiamo, abbiamo molti esterni, spesso giochiamo a un 4 piccoli per cui dobbiamo avere una buona percentuale però bisogna anche crearli bene e spesso invece soprattutto nei primi due quarti non li abbiamo creati bene. Qualche volta abbiamo avuto fretta come abbiamo rinunciato dei buoni tiri quando invece abbiamo creato qualcosa di più. È un po' di maturità. Zivic-Modica, però è mancato molto il reparto esterno, buon aiuto probabilmente stasera non era assolutamente inserato, Cucinelli molto a sprazzi, circosta qualche fiammata, forse lì è un po' mancato qualcosa, la chiave di lettura può essere giusta. Sì, è strano perché abbiamo tenuto offensivamente con i lunghi però abbiamo pagato un po' in termini di rimbalzi offensivi perché poi alla fine qualche rimbalzo di Demini in più ci è costato moltissimo. Non siamo riusciti ad abbinare la qualità magari di qualche attacco con i lunghi invece di buoni tiri da fuori, purtroppo le percentuali non ci hanno premiato. Se avessimo avuto tutti e due i reparti allo stesso livello probabilmente avremmo un altro tipo di risultato. Però siccome queste cose ogni tanto succedono dobbiamo comunque pensare che anche in condizioni in cui gli esterni non segnano si può vincere la partita. Massimo, da dove si riparte in una serie pazza con partite ogni tre giorni, addirittura domenica si giocherà ogni due giorni, da dove si riparta per costruire una gara diversa? Sì, bisogna partire con un atteggiamento agonistico diverso perché all'inizio il problema non è solo che non entrava il tiro a tre punti ma non ci siamo neanche tuffati tanto con le manine per terra, con il nasino vicino al pavimento. Nel playoff non puoi assolutamente lasciare niente perché ogni lasciata potrebbe aprire una piccola voragine perché queste serie qui poi contano anche non solo le cose dal punto di vista tecnico ma anche dal punto di vista mentale. Quando vedi un avversario che si butta e fa un canestro in più qualche volta ti scende un po' il morale a terra e invece nel playoff non puoi rinunciare a niente. Telegrafico la serie è lunghissima ancora però? Sì, è lunghissima, bisogna vincerne tre per cui in questo momento è in vantaggio Siena che stasera si è meritata la partita, adesso cercheremo di ribaltare assolutamente sapendo che non sarà facile neanche in casa nostra.